La diocesi di Nocerasarno a Napoli per offrire l'olio per la lampada di San Gennaro. Saranno circa mille i pellegrini che sotto la guida del vescovo Monsignor Giuseppe Giudice insieme ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose si recheranno a Napoli. L'ultima donazione c'era stata ben 25 anni fa, era il 18 settembre del 1994. Della delegazione faranno parte anche i sindaci dei comuni che compongono la diocesi di Nocerasarno ed il presidente della provincia di Salerno. Al corteo prenderanno parte gli sbandieratori e i musici di Nocera dei Pagani e i figuranti del corteo storico di Sant'Egidio del Monte Albino. Il vescovo e le autorità civili saranno accolti a partire dalle ore 16 e 30 nella sala capitolare della Basilica di San Lorenzo Maggiore dal comitato diocesano San Gennaro. I pellegrini invece si ritroveranno all'interno della Basilica di San Lorenzo Maggiore dove alle ore 17 Monsignor Giuseppe Giudice presiderà il rito di benedizione dell'olio. Al termine ci si richerà in processione verso la cattedrale di Napoli dove alle ore 18 avrà luogo la celebrazione dei primi vespri preseduta dal cardinale Crescente Giuseppe. La venerazione delle reliquie del santo martire di Gennaro e l'ascensione della lamba davotiva sul sagrato del Duomo. Credo era un avvenimento importante l'eluminare nella settimana di San Gennaro. Sì, questo grazie al presidente Fiore della Camera di Commercio a riprendere una tradizione di 70 anni fa è una cosa bella. Significa che va bene, ci sia stato un periodo di difficoltà eccetera ma che se abbia avuto il coraggio di riprendere questa tradizione significa voler riprendere le tante cose belle che si facevano a Napoli che si facevano in occasione della festa di San Gennaro e che si facevano naturalmente anche qui a Via Duomo. Grazie. Presidente, anche per i commercianti è una boccata di tossicolo.